Sono tornati a protestare per rivendicare i propri sacrosanti diritti. Lo hanno fatto questa mattina davanti alla sede dell'assessorato regionale alla sanità. Stiamo parlando di 22 OS della ASL Chieti Lanciano Vasto. Assunti 18 mesi fa, a fine settembre, resteranno senza lavoro. Non solo. In ospedale, dunque, nell'esercizio della propria attività, hanno contratto il Covid. Ma quando si sono recati all'Inps la risposta è stata la ASL non ci ha trasmesso nulla. Non vi possiamo pagare neanche la malattia. Insomma, oltre al danno, la beffa. Naturalmente una forte, fortissima protesta. Voi chiedete intanto la stabilizzazione. Certo, a grande voce la stabilizzazione. Perché non è possibile che siamo venuti per emergenza Covid circa 18 mesi fa e adesso ci ritroviamo estromessi soltanto noi, co-co-co, dalla stabilizzazione. Questo è inaccettabile perché facciamo un lavoro come dipendenti ma abbiamo un contratto co-co-co. Siamo nei turni. Qua siamo tutti di fuori paese, fuori della nostra regione. Lei di dov'è? Io sono di Caserta, Teano precisamente. Abbiamo lasciato il nostro paese, abbiamo dovuto prendere un appartamento, le spese, punteggi zero. Se vogliamo fare un concorso non ci serve a niente. Quindi questo co-co-co del cacchio, ma che ci serve? Pettinari, la situazione è davvero insostenibile. Ma sì, perché come questi, anche tanti altri, i nostri OS, li abbiamo chiamati eroi, li abbiamo fatti, li hanno fatti lavorare in prima linea. Hanno contratto il covid e tanti di loro rientravano a casa e non potevano nemmeno riabbracciare i loro cari e oggi ci ritroviamo in mezzo alla strada, buttati in mezzo alla strada senza nessuna certezza. Allora, io oggi sono venuto qui a supporto. Mi auguro che la regione Abruzzo mostrerà sensibilità a questo tema perché non si possono buttare per strada queste povere persone. Anche perché sono sostanzialmente dei lavoratori precari che vengono da fuori regione e chiedono di essere stabilizzati, ma legittimamente. Certo, ci sono i strumenti legislativi che consentono una sorta di reintegro. Sono quelli adottati da altre regioni. Altre regioni hanno fatto questo, hanno fatto avvisi con delle clausole di salvaguardia o delle premialità aggiuntive per chi ha lavorato lì. Ecco, questi poveracci invece sanno solo che alla fine di settembre verranno buttati in mezzo alla strada e non riassunti.